Abbiamo cercato, come spesso succede in questi momenti, di analizzare le cose buone e le cose meno buone, puntualizzando magari le situazioni negative ma senza fare grandissimi drammi perché credo che in questo momento bisogna cercare anche di essere un po' equilibrati. Questa squadra ha dato tanto, ha speso tanto e credo che una battuta del resto ci possa anche stare anche se è inevitabile che è venuta in un modo non bello e soprattutto in un momento in cui potevamo anche fare un piccolo salto di qualità ma non è avvenuto e il calcio poi è bello perché fra meno di quattro giorni abbiamo subito la possibilità di rifarci e di rimanere aggrappati ad un sogno e anche alle posizioni quelle un pochino più belle della classifica. Uno cerca di preparare la partita nel migliore di modi. Nel calcio di oggi conosci praticamente tutto delle squadre avversarie però poi quello che fa veramente la differenza è l'interpretazione, è l'atteggiamento e secondo me quello che noi abbiamo sbagliato al di là della tattica, della tecnica, di tutto il resto, quello che abbiamo sbagliato è non aver capito veramente che tipo di partita fosse, il cercare di adattarsi subito a una determinata partita, una determinata partita brutta, una partita in cui dovevamo tra virgolette portare a casa la pelle in qualche modo e noi non siamo stati bravi ad adattarci subito la situazione, abbiamo subito, abbiamo preso degli schiaffi e non siamo stati in grado né di difenderci né di reagire e quindi secondo me è più questo che tutto il resto. La cosa che mi fa comunque stare sereno è che questa squadra fondamentalmente quest'anno ha sbagliato a livello di atteggiamenti solamente questa partita o forse la prima venti minuti di Parma, non ricordo altre partite sbagliate sotto questo punto di vista, quindi spero e sono convinto che sia il classico incidente di percorso, questa squadra è giovane anche, è un percorso di crescita sotto tutti i punti di vista e quindi ci può stare una partita del genere, adesso le persone intelligenti, i giocatori intelligenti sanno dove probabilmente hanno sbagliato e cercano di farne tesoro di questa partita e di ripresentarsi al meglio alla partita di domenica che è evidente che sia per noi un banco di prova. È una partita complicata contro una squadra che sta cambiando anche qualcosa a livello di moduli, rientra Simone e quindi è una partita complicata perché loro vengono da una sconfitta importante perché hanno bisogno di punti a tutti i costi e allo stesso modo noi bisogna in qualche modo reagire dalla prestazione di domenica. Simone mi fa un enorme piacere ritrovarlo e quindi è un po' è un po' strano, la fortuna è che il ghiaccio l'abbiamo già rotto all'andata e quindi sì Simone qua ha lasciato un pezzo di cuore ma anche fra tutti noi ha lasciato un segno indelebile in questa società, in questa città, in questa piazza, però domenica è inevitabile che sia un avversario, sta facendo un buonissimo campionato soprattutto in questo momento, è diventato un giocatore fondamentale per loro ma non avevo assolutamente dubbi, però domenica come spesso succede è semplicemente un avversario come lo è la Spalli in questo caso. Se ti dicessi che fosse facile direi una bugia, ma soprattutto perché ti senti bene e quindi non giocare a volte giustamente ti dispiace, è un percorso personale che sto cercando di affrontare nel migliore di modi, però credetemi, chi mi conosce sa benissimo che non mi sono mai tirato indietro, non mi tirerò mai indietro minimamente di un centimetro, anzi starò attaccato ancora di più alla maglia quando sarà possibile la domenica e quindi in questo momento la stagione, soprattutto dopo una parere del genere, dovrebbe essere così la normalità ma a volte non lo è, credo che sia più importante pensare al collettivo più che al singolo. Adesso se vogliamo fare un grandissimo finale di stagione, vogliamo portare a casa una partita domenica, credo che bisogna mettere da parte un po' gli egoismi personali ma pensare al collettivo. Credo che noi abbiamo dimostrato di potersela giocare con tutti quanti, abbiamo dimostrato che possiamo divertirci se abbiamo determinate caratteristiche, perché come viene meno qualcosa puoi fare delle brutte figure. Siamo lì, siamo lì a 5 punti dall'ottavo posto, siamo a 8 punti dall'Europa League, ma è pur vero che dietro non abbiamo 20 punti di vantaggio da dietro, quindi credo che in questo momento sia la cosa più importante quella di rispondere con una grande reazione domenica.